A un anno esatto dalla morte delle Pibede Oro, un grande giornalista italiano, Maurizio Crosetti, racconta a terza pagina il suo Maradona. È stato un uomo smisurato, ma è un lapsus freudiano, detto è perché se ne parla al presente, cioè è difficile davvero elaborare questo lutto, un po' perché appartiene Maradona a quella categoria di personaggi quasi fuori dalla storia, come forse un personaggio letterario, quasi una figura di invenzione, tante cose contiene. Quindi è difficile pensarlo morto, pensarlo morto nel corpo e nell'immagine certamente no. E poi è anche difficile pensarlo morto per come è morto, io credo. Cioè è difficile elaborare il concetto di quel lutto in abbandono, in totale disinteresse da parte anche tutto sommato di chi doveva essergli più vicino e in parte anche per scelta sua, perché lui aveva deciso così non di morire in quel modo, ma di starsene per conto proprio. Tu sei arrivato lì il giorno dopo, dopo la morte, quindi hai anche potuto respirare l'atmosfera di una città, abbiamo visto immagini incredibili, no? Il tuo primo impatto? Beh, appena ho detto alla Dogana, insomma, al controllo passaporti perché ero lì e c'erano grossi problemi, anche adesso ci sono regati al Covid, ma allora anche di più, perché si parla di un anno fa, quindi niente vaccini, arrivare dall'Europa, arrivare là in pieno Covid per Maradona. Ecco, quando però ho detto perché ero lì, quest'uomo quasi si è messo a piangere e ha cominciato a raccontarmi, un poliziotto, eh, di quando aveva portato suo figlio, suo bambino all'allenamento del Boca, credo, e Maradona gli aveva fatto l'autografo, se era fermato, era stato disponibile. E questo è il primo impatto, c'è un poliziotto che si mette a piangere per Maradona e piangevano tutti, peraltro. Abbiamo detto un uomo smisurato, se tu dovessi cercare nella tua memoria tre immagini di Maradona, di questa sua carriera, sia prima che dopo anche il ritiro, cosa ti viene in mente? Ce ne sono tante, direi, forse lui a terra con la caviglia spezzata da Goicoce a Marcellona, lui che però rinasce miracolosamente, grazie alla chirurgia, grazie al corpo che aveva, che ha distrutto nel tempo anche lui, un po' anche volendolo, ma che era un corpo spaventosamente adatto alla sua arte. Poi, beh, certo, è facile, quando sbuca dal San Paolo e poi si mette a palleggiare, sembrava un bambino allora, però cominciava l'avventura nella sua seconda città natale, perché lui è argentino ed è anche napoletano e continua a parlare nel presente, per scelta. E poi, beh, l'ultima è un'immagine dolente, quella del suo sessantesimo compleanno, lui che si trascina come un vecchio decrepito proprio, aveva solo 60 anni e sarebbe morto un mese dopo, poco più di un mese dopo, e saluta chi non c'è, perché le tribune sono vuote, gli hanno fatto questa festa di compleanno in uno stadio che non poteva essere pieno. Quando c'era il Covid, lo hanno messo a sedere su una specie di trono, come un tronista dei reality show, no? Lui era lì e guardava nel vuoto e camminava come mio papà a buon'anima, prima che morisse mio papà è morto a 86 anni, non a 60.